Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mocchio Oggi siamo qui a Torino e andremo a baciare le ragazze facendole indovinare una canzone Vediamo cosa succede Io ti metto le cuffie e ti metto una canzone, ok? Ti do 10 secondi per indovinarla, senza che le ti aiuta Se tu la indovini mi dai uno schiaffo, se invece sbagli ti devo baciare In bocca? In bocca A stampo Va bene? Quanto la sbaglia sta canzone? Va bene, va Vai, proviamo Vai, 10 secondi, eh? Ma va bene, tanto non le so di canzone Ma, guarda che ora mi azzecca proprio questa Sei, ti do 10 secondi, eh? Vai Capo plazza Allenamento 3 No, l'hai indovinata! Va bene, vai, dammi lo schiaffo Boom Non la sai? Zero? Zero, zero? Leggi? Mica Starless Mai sentita? Quindi? Quindi io ti devo baciare Non la conosci? Vabbè, meglio Vai, bacio No? No? Vedi? Vai Bazzi Dai, come no? Leggi Lorenzo Fragola Vai Io ti metto le cuffie, ok? Ti metto una canzone Tu hai 10 secondi per indovinare il titolo E chi la canta? Se indovinate mi dovete dare uno schiaffo Se sbagliate vi devo baciare Balzo Balzo, dai Vai, tu sei rimasta l'unica Dai, prova tu Vai, prova Il bacio glielo da tu E' italiano Cazzo la conosco, aspetta Titolo E chi la canta? Oh, 100 secondi E non lo so Non lo so Boh, basta Leggi Sì, vabbè Lo sentiamo non sul titolo Eh, vabbè Cosa vuoi dire Vai, bacio Zero? Vai Niente, zero? No Zero, Alessandra Amoroso Non la conoscevi? No Vabbè, meglio Non la conosceva meglio Vai, bacio Qual è? Sai che non me la ricordo Zero? Neanche il cantante, nessuno? Eeeh Che peso Che peso Non la conosceva Vai, bacio Bum Chi è? Eeeh Post melone Sì No, non puoi suggerire Non te lo può suggerire Ah, non lo so Vai Allora niente Schicco Ah, forse io Vai, bacio Ma tipo Aspetta Vai, dimmi Il bacio No, no Vabbè, quello poi si vede Ah, va Ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Voglio almeno 10.000 like Per un altro video Rimorchio In altre città Seguitemi su Instagram Siamo Lady Martino Iscrivetevi al canale Adesso ci vediamo Ciao Ciao